La terza me la faccio domani, venerdì. Ecco, quindi ho detto che è un pericolo pubblico e in questo momento è un po' a rischio. L'annuncio del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ieri nel corso del convegno della Confindustria, sul nord e sud, alla stazione marittima di Napoli. E' stato lo stesso presidente tra i primi a vaccinarsi lo scorso 27 dicembre con l'obiettivo di dare l'input alla campagna vaccinale, a darne notizia. Focus dell'intervento, il divario tra nord e sud e la ripartizione delle risorse economiche. Noi abbiamo 209 miliardi non per il Covid ma per recuperare il divario con il sud. Questo dato non è chiaro a tutti quanti, altrimenti non avremmo avuto 209 miliardi. L'obiettivo è recuperare il divario territoriale, grandi infrastrutture, sociali, a livello disoccupazione e il divario di genere, disoccupazione femminile. Per affrontare il problema del sud ci vogliono, prima che risorse, una classe dirigente che abbia struttura morale, ideale, senso dell'unità nazionale per fare questa operazione. Non è mancato tuttavia un cinno ai no Green Pass e ai no Vax. In questo momento abbiamo i no Green Pass, un altro fenomeno tutto italiano. Come lei ha potuto vedere, ormai i no Green Pass vanno in giro per l'Italia, cioè è diventata questa non un'attività di protesta sanitaria, ma è diventata un'attività sportiva. Ormai vanno a fare frutting. Abbiamo tutti i radical chic, chi va a fare il picnic a Trieste con lo zainet, i no Green Pass. La quantità di bestialità che abbiamo ascoltato, lo stato di diritto, lo stato di eccezione, e le scemenze. Io sono per raddoppiare il prezzo dei tamponi, non per darli gratis. Lo Stato ti dà la vaccinazione gratuita. Se non ti vuoi vaccinare, il diritto di andare a contagiare i tuoi compagni di lavoro o i bambini a scuola non ti è concesso dalla Costituzione. La settimana scorsa abbiamo registrato la prima scuola in Campania con un focolaio di Covid, una scuola comprensiva. Siamo, credo, una ventina di bambini positivi. Abbiamo fatto il contral tracing, abbiamo visto dove vivevano tutte le famiglie, genitori non vaccinati. Non vaccinati. Questo dovrebbe essere lo stato di diritto. Questo è lo stato della cialtroneria, del farabuttismo, della irresponsabilità. Con buona pace degli intellettuali radical.